Filippa, dell'aria, una durazione, malissima blog, si torna un po' bambini? Si torna un po' bambini, ma io credo che non si smette mai di essere bambini, questo è il bello, no? Tu puoi chiedere uno di 80 anni, di 60 anni, di me, 44 anni, come quanti anni ti senti? 12, 5, 3, non lo so, la voglia di divertirsi e noi portiamo i bambini per avere una scusa, invece vogliamo divertirci noi, sorridere sempre così. Cosa ci dobbiamo aspettare oggi? Tanto divertimento, tanto tempo per stare insieme, per sorridere e per immergerci proprio in questo mondo fantastico delle chiave, dei cartoon, incontrare, adesso vedo ancora proprio vedere Peppa Pig, quindi adesso siamo proprio dentro la casa e è una grande emozione poterla scoprire, no? È vero, grazie mille, malissima Peppa, aspettiamo Peppa, aspettiamo i pigiamini e di Peppa per Leolandia. Ciao, ciao!